Ciao ragazzi e buongiorno! Oggi è il primo dicembre e volevo condividere con voi lo spacchettamento del primo pacchetto del calendario dell'avvento. Allora, innanzitutto vorrei parlarvi del calendario che è organizzato da Bio Alchemilla e Vanity Space. All'interno del pacco che vedete qui dietro, pieno di pacchetti, c'era questa cartolina d'auguri da parte di Bio Alchemilla e Vanity Space. Troppo troppo carina. Allora, Bio Alchemilla è un sito, uno shop online che vende appunto prodotti Eco Bio. Vanity Space è un gruppo Facebook, vi lascio sotto tutti i link ovviamente. Allora, all'interno del pacco c'era questa pochette di Puro Bio in stoffa, troppo troppo carina con questi fiori. E all'interno dei campioncini. Allora, i campioncini sono una crema Anthos albicocco e qui seto e olio di jojoba. Poi, delle creme di Lakshmi, anti-age, sono queste due. Poi, sempre di Lakshmi, una crema alla rosa. Eccola qua. E infine, di Green Natural, un doccia shampoo delicato. Eccolo qua. Allora, passiamo allo spacchettamento del pacchettino number one, numero uno. Eccolo qui. Ok, aperto. Decisamente. Allora, questo non l'avevo, sono felicissima di provarlo. È il primer occhi di Puro Bio. È uniformante. Puro Bio non l'ho mai provata. Tutti dicono essere ottima. Quindi, davvero, sono felice di averlo trovato. Niente, l'userò al primo trucco. Questo era lo spacchettamento del primo pacchettino. Quindi, primo dicembre. E domani, ovviamente, spacchetterò il numero due. A domani!